bentornati raga qua è Savix che vi parla e benvenuto per chi è nuovo nel canale ragazzi oggi vi voglio riportare che funziona ancora ragazzi settimana del riportaggio di tutti i glitch che funzionano comunque sia raga parentesi prima di iniziare se anche voi volete un account con tutti questi soldi parliamo di 7 miliardi magari completi mod e la fa strana non esitate a contattarmi comunque ragazzi torniamo a glitch ci dobbiamo andare a togliere tutti i giubbotti super pesanti che abbiamo lo scopo è avere zero giubbotti super pesanti una volta che abbiamo fatto questa cosa possiamo anche andare da ammunition e andiamo a comprarci 10 giubbotti pesanti quindi nel penultimo slot che adesso vi faccio vedere vedete giubbotto pesante io ora ne ho 8 andremo a comprarli tutti quindi ne avremo 10 e in teoria raga non potremmo più averne perché come ben sapete i giubbotti sono solo 10 ma a noi non ce ne frega niente perché chiameremo franklin ragazzi e ci faremo mandare il nostro zainetto con altri 10 giubbotti super pesante l'unico requisito quindi è possedere l'agenzia ragazzi e aver fatto il video introduttivo quindi facciamo richiedi rifornimenti ragazzi e aspettiamo che ci spawna nella mappa questo zainetto a questo punto una volta spawnato dovremmo recarci dallo zainetto e semplicemente raccoglierlo e come ben vedete ragazzi sbada bam avremmo 20 giubbotti invece che 10 raga lasciate un like se vi è piaciuto il video se secondo voi è stato d'aiuto se qualcuno non lo conosceva e siccome l'ho ripostato è servito un saluto e alla prossima bella raga non lo conosceva